Ciao a tutti amici di Vanilla. Guardando le foto delle numerose attrici del cinema americano di epoche passate, ci si perde nel candore di quei visi incantevoli che nascondevano però una realtà ben diversa da quella che poteva suggerire la loro bellezza, proposta al pubblico come pura e impeccabile. Una delle attrici americane, che durante gli anni 30 ebbe un notevole successo, ma soltanto per un po', si chiama Francis Farmer e la sua storia è considerata tra le più tristi di Hollywood perché, nonostante la sua bellezza, la sua vita fu tutt'altro che una favola. Francis Farmer nasce il 19 settembre del 1913 a Seattle, città all'epoca in pieno sviluppo economico e culturale. La sua infanzia non è per niente tranquilla, i genitori si separano quando Francis ha quattro anni e lei, il fratello e la sorella rimangono con la madre, una donna dal carattere forte ed idee patriottiche che non dimostra nessun affetto per i figli. Dopo la separazione dal marito, la madre di Francis cambia spesso città per lavoro, incurante del disagio a cui sottopone i bambini, privandoli di una stabilità familiare che per loro è essenziale e quella che ne risente di più è proprio Francis. L'adolescente mostra già un atteggiamento da persona indipendente, indossa abiti maschili che all'epoca sono in forte contrasto con la sua bellezza, siamo alla fine degli anni venti, il mondo era completamente diverso da quello di oggi. Aliceo fa parte della redazione del giornale della scuola e gioca nella squadra di hockey, ma anche se partecipa a molte attività, la sua vita è caratterizzata dalla solitudine. Nel 1931 frequenta l'ultimo anno di liceo e partecipa a un concorso di scrittura con il suo saggio God Dies, Dio More. Nel pezzo si ispira alle idee del filosofo tedesco Friedrich Nietzsche, lei scrive di volere un superpadre Dio in un mondo caotico dove Dio era assente. Francis vince 100 dollari ma il suo lavoro non è comunque apprezzato in quanto considerato polemico, viene additata come atea e la vicenda finisce persino sulla stampa locale. Lei è spinta a difendersi e dice, non potevo dire che Dio non ci fosse, ma non riuscivo a trovare una prova nella mia vita che lui esistesse o che avesse mai dimostrato un interesse particolare per me. Non ero atea ma ero sicuramente agnostica e già a 16 anni ero abbastanza indottrinata di questa teoria. Dopo il liceo, Francis Farmer si iscrive al corso di giornalismo dell'Università di Washington e lavora come cameriera per mantenersi negli studi. Entra nel gruppo teatrale dell'Università e comincia recitando da protagonista in alcuni spettacoli, tra cui si possono ricordare i classici Elena di Troia o lo Giovanni. Proprio in questo periodo il giornale comunista di Seattle, The Voice of Action, organizza un concorso a cui Francis partecipa e ottiene di far sottoscrivere il maggior numero di abbonamenti al giornale. E così vince un viaggio nell'Unione Sovietica per poter visitare il teatro di Mosca. La ragazza accetta volentieri il premio nonostante le opposizioni al comunismo tipiche di quel periodo. Siamo alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale e la paura per le rivoluzioni proletarie corrono in tutto il mondo. Proprio dopo questo viaggio Francis viene attaccata dalla stampa che la definisce una traditrice della patria. Non solo è atea, ma è anche comunista. In ritorno dall'Unione Sovietica, Francis si ferma a New York. L'idea è quella di iniziare la carriera come attrice teatrale, ma poi le cose vanno diversamente. Conosce l'agente Shepardrobe che la spinge a fare cinema e, dopo alcuni provini, la Paramount le offre un contratto di sette anni che la ragazza firma il giorno del suo ventiduesimo compleanno. Francis si trasferisce a Los Angeles e passa dall'essere una dissidente di Seattle a raffinata attrice di Hollywood. Nel novembre del 1935, Francis Farmer compare nel suo primo film, una commedia intitolata Too Many Parents. L'anno seguente è pieno di impegni. Sposa il collega Leif Erikson, è la protagonista del film drammatico Border Flight e lavora con Bing Crosby nel film western Writh on the Range. La notorietà di Francis aumenta. Allo stesso tempo iniziano i tentativi di manipolazione da parte della Paramount. La Farmer non è disposta a farsi sottomettere e non solo rifiuta gli inviti a feste ed eventi di Hollywood, ma rilascia interviste che soddisfanno poco la major cinematografica. La Paramount stessa descrive Francis Farmer alla stampa come la star che non andava a Hollywood, ponendo l'attenzione sul suo modo eccentrico di vestire. In contrasto con il mondo del cinema in cui vive, Francis continua a essere se stessa, sia come idee, sia come atteggiamento, e si veste sempre con abiti poco femminili quando non è sul set. Praticamente era un'eretica per l'epoca, non pensiamola con gli occhi di oggi. Nell'estate del 1936 inizia a lavorare nel film Come and Get In, tratto dal romanzo di Edna Ferber. Il regista è il grandissimo Howard Hawks mago della commedia americana, a cui inizialmente piace la collaborazione con la Farmer, ma Hawks non dura a lungo. Il regista discute troppo animatamente con alcuni colleghi e viene sostituito da William Wyler, che invece non ascolta per nulla i suggerimenti di Francis Farmer e vuole fare di testa propria. Nonostante le infinite difficoltà, il film viene completato e ha un successo talmente esplosivo che Francis Farmer viene acclamata come una nuova Greta Gallo. La fama cresce, ma l'insoddisfazione. di Francis è costante. Sostiene che i ruoli che le vengono assegnati sono deboli, che la sua bellezza è strumentalizzata e mette in ombra il suo talento come attrice. Ormai discute sempre con i registi per i personaggi che deve interpretare, come quando recita a fianco di Cary Grant del film The Toast of New York. Intanto Francis e il marito si allontanano e lei riprende a recitare a teatro. Accetta vari ruoli durante un summer stock che va in tournée sulla costa ovest degli Stati Uniti, dove viene notata da Harold Kralman, direttore del group theater, e dal drammaturgo Clifford Odez, che gli offrono il ruolo di protagonista della loro rappresentazione, Golden Boy. Francis Farmer è entusiasta, accetta la parte e inizia una relazione amorosa con Odez, già sposato con l'attrice Louise Reiner. È grazie al lavoro di Francis che Golden Boy diventa la produzione più importante del group theater fino a ottenere un ottimo successo anche a livello nazionale. Quando Odez tronca bruscamente la loro relazione e sceglie un'altra attrice per il ruolo, Francis è a pezzi e pensa che Odez fosse interessato soltanto alla sua fama e non avesse nessun interesse per lei, un pensiero che la fa cadere in una spirale depressiva. Dopo questa delusione amorosa, Francis comincia a bere e diventa una fumatrice a canipa. Francis Farmer torna a Los Angeles e riprende la relazione con il marito Nick Erickson. I due si riconciliano anche lavorativamente. A 25 anni Francis Farmer è giovanissima e rimane incinta, ma Erickson la convince ad abortire con la motivazione che un figlio possa rallentare le loro carriere. Le conseguenze però sono devastanti. In seguito all'aborto Francis non può più avere figli e divorzia immediatamente da Erickson, un colpo che devasta la sua mente già provata. Dopo poco tenta ancora la via del teatro, ma sfoga le sue difficoltà nella bottiglia e viene licenziata praticamente subito. Avere a che fare con lei in quel periodo significa andare incontro a un litigio assicurato. La parabola finale della sua carriera l'ha in bocca nel 1942, quando dopo aver lavorato con Tyron Power nel film Son of Fury, viene licenziata dalla Paramount per aver rifiutato un ruolo nel film Take a Letter, Darling. Il mondo è in guerra e Francis è sempre più instabile. Viene fermata dalla polizia a Santa Monica perché guida con gli abbaglianti accesi in una zona che deve restare al buio a causa della guerra. In più è ubriaca, senza patente, e a un certo punto l'attrice dice al poliziotto mi annoi e sgomma via. I poliziotti la riacciuffano e la portano in centrale. E qui Francis ha un comportamento che va completamente fuori dalle righe. Quando le chiedono quale sia la sua occupazione, risponde in un modo esageratamente volgare. Mi lascio intuire quale occupazione abbia risposto. E la scenata in stazione di polizia è da cinema. Francis trascorre la notte in guardina e viene multata per 500 dollari, di cui ne paga subito la metà e viene messa in libertà vigilata con la patente sospesa. Poco tempo dopo viene arrestata per non aver pagato l'altra metà della multa e negli stessi giorni una parrucchiera della Paramount la denuncia, sostenendo che l'attrice l'ha aggredita con una spazzola e le ha slogato la mandibola. È il gennaio del 1943. Francis viene portata a forza al processo e il suo comportamento è quello di una persona fuori di sé. Oltre a rispondere in malo modo, in modo irriverente e provocatorio, tira un calamaio addosso al giudice che la sta interrogando. La punizione per queste sue condotte fuori dalle righe è di 180 giorni di carcere. Mentre viene scordata fuori dall'aura del tribunale, grida, hai mai avuto il cuore spezzato? Una frase che dice praticamente tutto riguardo il suo stato d'animo. L'attrice evita la prigione grazie all'intervento della famiglia, ma ormai è evidente che ha bisogno di cure che non ce la fa più da sola e viene ricoverata nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Los Angeles il 20 gennaio del 1943, dove le viene diagnosticata una depressione maniacale. L'attrice viene trasferita all'istituto psichiatrico Kimball Sanitarium e vengono somministrate delle dosi di shock insulinici per 90 giorni e cade in coma diverse volte. Francis Farmer trascorre otto mesi al Sanitarium e capisce che ormai non può più continuare a fare l'attrice, ha assoluto bisogno di stabilità. Il 23 marzo del 1944 viene ricoverata presso il Western State Hospital a Lakewood, nello stato di Washington, dove per tre mesi è sottoposta a un trattamento sperimentale di elettroshock e le fa perdere la memoria, lasciandola in uno stato confusionale. Viene dimessa, ma ormai non c'è più molto di lei. Torna dalla madre, ma questa la fa ricoverare nuovamente al Western State Hospital nel 1945, dove rimane per i successivi cinque anni. Durante questo ricovero alcuni sostengono che sia stata sottoposta a una lobotomia frontale, un intervento scoperto pochi anni prima, ma già molto diffuso per i casi estremi di irascibilità. Ma non ci sono prove concrete dell'operazione e la clinica smentì categoricamente l'operazione alla ragazza. Anche la famiglia in testimonianze successive garantisce che Francis non sia stata sottoposta all'intervento, forse un particolare inventato da William Arnold per il suo libro Shadowland. Nel 1950 Francis esce dall'istituto e ha la forza di ricominciare. Trova lavoro presso la lavanderia del Fairmont Olympic Hotel, lo stesso dove aveva girato come una star il film Ambizione nel 1936. Nel 1954 sposa un ingegnere, Alfred Lobley, ma il matrimonio dura pochissimo. La Farmer parte per la California, dove trova impiego come segretaria e lì rimane fino al 1957. Qui incontra l'agente televisivo Leland Mikesell, uno in quale intreccia una relazione e lui la convince a tornare a recitare. Francis Farmer ricomincia a comparire in pubblico, si esibisce cantando all'Ed Sullivan Show. Ma l'apparizione più significativa durante questa fase è quella al programma This Is Your Life di Ralph Edwards. Le proposte di lavoro ricominciano ad arrivare e Francis accetta la parte in una rappresentazione teatrale in Pennsylvania. Per la cronaca, l'ultimo film della Paramount in cui compare è Party Clasher del 1958. La sua carriera sembra avere un nuovo inizio, un emittente locale di Indianapolis le offre la conduzione di un programma televisivo, Francis Farmer Presents, che porta avanti per circa cinque anni ma poi, inesorabile, torna la caduta verso il baratro. Nel 1963 divorzia da Mikesell, ricomincia a bere il suo comportamento irracondo, instabile e irriverente, la porta all'inevitabile licenziamento. Nel 1968 si converte definitivamente al cattolicesimo e poco dopo e viene diagnosticato un cancro all'esofago. Muore il primo agosto del 1970 presso il Community Hospital di Indianapolis. L'attrice Jean Ratcliffe, amica di Francis, nel 1972 fece pubblicare l'autobiografia di Francis Farmer con il titolo Will there be a morning? An autobiography by Francis Farmer. Il volume fu scritto grazie ad alcune cassette che Francis aveva registrato per una giornalista che avrebbe dovuto scrivere nella sua vita, ma il progetto era stato abbandonato dopo la morte di Francis. È in questa autobiografia che Francis rivelò dettagli spaventosi riguardo gli anni trascorsi nelle strutture psichiatriche che lei definì come un'incarcerazione brutale. Dichiarò di essere stata maltrattata e brutalizzata in diversi modi e fu costretta a comportarsi da schiava sessuale per i medici e gli inservienti delle strutture, che fu assalita dai topi, costretta a mangiare cibo avariato, incatenata, immobilizzata con le camicie di forza e immersa nell'acqua ghiacciata. Quanto ci sia di vero in queste parole noi oggi non lo sappiamo e probabilmente non lo sapremo mai. Ratcliffe fu accusata di aver scritto l'intera biografia dell'amica attrice scomparsa per mero scopo di lucro, ma la donna si difese sostenendo di aver redatto solo la parte finale che riguardava la morte dell'amica Francis. In ricordo di Francis la sorella scrisse la biografia intitolata Look Back in Love pubblicata nel 1978, da cui fu tratto un film nel 1982 che si chiama semplicemente Francis. Il cantante di Nirvana, Kurt Cobain, originario di Seattle, fu colpito profondamente dalla storia di Francis Farmer e scrisse la canzone intitolata Francis Farmer Will Have a Revenge on Seattle, nell'album in utero del 1993, e un'altra intitolata Letters to Francis, inclusa nella collezione Montage of Back. Cobain fu tanto colpito dalla vicenda di Francis da immedesimarsi completamente nella storia dell'attrice, tanto che fece indossare a Courtney Love un abito verde appartenuto a Francis in occasione del loro matrimonio. Se Francis Farmer abbia avuto la sua vendetta non si sa, scrive Cobain, tornerà come fuoco per bruciare tutti i bugiardi e lasciare una coltre di cenere sul terreno. Quel che non si può negare è che Francis abbia tentato di ribellarsi ai canoni di comportamento della società americana d'inizio del Novecento da subito, da quando a quattordici anni scrisse che Dio muore e venne accusata di essere comunista. Durante la sua carriera incantò con la sua bravura e la sua bellezza, ma per le ribelli di un tempo il destino era spesso quello di finire a fare le schiave sessuali in uno squallido manicomo.